Noci, nocciole, mandorle, pistacchi e poi mix. L'epoca è quella giusta, li consumiamo tutti, ovviamente sappiamo che fanno anche molto bene, ma sono ugualmente puliti. Il salvagente ha portato in analisi, nel numero che trovate in edicola questo mese, 60 prodotti diversi. Oggi vi raccontiamo cosa abbiamo trovato. E poi con il professore Alberto Ritieni ci occupiamo di semi di lino, intanto cercando di capire le proprietà che possono avere per il nostro organismo e poi la questione omega 3. Ci sono davvero e sono utili? Ne parliamo dopo con il professore Alberto Ritieni. Passate le feste è tempo di riempire il cestino di frutta secca con anacardi, mandorle, nocciole, oltre alle quotatissime noci, nocciole americane e pistacchi. Si tratta di alimenti importantissimi sotto il profilo nutrizionale, che assicurano un effetto antiossidante, cardioprotettivo, antitumorale e antinfiammatorio. E per di più sono anche molto controllati, come hanno dimostrato le analisi che abbiamo condotto su 60 campioni, tra noci, mandorle, pistacchi e mix, e che trovate nel numero in edicola del salvagente. Tranne qualche raro caso, infatti, le prove di laboratorio hanno escluso la presenza delle temute aflatossine, le micotossine tipiche della frutta secca ed essiccata. Si tratta di uno dei più potenti cancerogeni naturali, e infatti sono le uniche micotossine per le quali esiste una regolamentazione che ne precisa i tenori massimi nell'alimentazione umana. Tuttavia, in totale, sono 21 le molecole sulle quali si è soffermata l'attenzione dei nostri ricercatori. Esito negativo ha avuto anche la ricerca dell'ocratossina. Qualche preoccupazione, tuttavia, c'è, perché le analisi hanno riscontrato spesso la presenza dell'alternariolo e del sommetile, e delle enniatine, sebbene in quantità sempre molto basse. In particolare, l'alternariolo è una molecola tipica di alcune specie di cereali, e la sua presenza nella frutta secca deve far riflettere se sia il caso di inserirla nella lista delle micotossine a cui prestare attenzione, insieme alle enniatine. Queste ultime sono nel mirino dell'Unione Europea già da qualche anno. Sono costante oggetto di monitoraggio per verificare se la frequenza della loro presenza negli alimenti sia tale da rendere necessario un limite massimo all'esposizione. Noci, mandorle e compagnia sono una vera miniera di oligoelementi e vitamine. Abbiamo così voluto mettere in evidenza le doti nutrizionali della frutta secca più consumata. Ad esempio, una porzione di 23 mandorle apporta 162 calorie ed è un'eccellente fonte di vitamina E, manganese, buona fonte di fibre, vitamina B2 e rame. Una porzione da 7 noci ha 185 calorie ed è un'eccellente fonte di omega 3, rame, manganese, oltre che una buona fonte di magnesio e fosforo. Una porzione da 12 nocciole poi ha 176 calorie ed è un'eccellente fonte di vitamina E, rame, manganese, oltre che una buona fonte di magnesio e fibre. Una porzione da 8 noci brasiliane ha 183 calorie ed è un'eccellente fonte di selenio, magnesio, rame, fosforo, oltre che una buona fonte di vitamina B1 e manganese. Una porzione da 49 pistacchi ha 158 calorie ed è un'eccellente fonte di vitamina B6, oltre che una buona fonte di fibre, vitamina B1, proteine, manganese, fosforo e rame. Una porzione da 12 noci di macadamia ha 200 calorie ed è un'eccellente fonte di manganese, una buona fonte di vitamina B1. 7 noci pecanne inoltre hanno 193 calorie e sono un'eccellente fonte di manganese, oltre che una buona fonte di fibre e rame. Una porzione da 35 arachidi ha 176 calorie ed è un'eccellente fonte di manganese, oltre che una buona fonte di proteine, vitamina E, magnesio, acido folico, fosforo, vitamina PP. Infine, una porzione da 18 anacardi ha 155 calorie ed è un'eccellente fonte di rame, manganese, oltre che una buona fonte di magnesio, fosforo, vitamina K e zinco. Avete visto, per una volta i controlli sembra che funzionino davvero. Per lo meno questo è uno dei pochissimi test del salvagente che promuove praticamente tutti i prodotti. E non è male, ne possiamo prendere atto. E adesso parliamo di semi di lino, sempre più consumati, utilizzati anche nella cosmesi, sono davvero utili. Innanzitutto abbiamo chiesto a voi se li usate, come li usate e cosa ne pensate. Con il professore Alberto Ritieni, dopo la pubblicità, vediamo davvero cosa possono mantenere. I semi di lino sono il nuovo superfood, lei crede nelle loro potenzialità e se li usa, come li usa? Sì, ci credo, però non li uso, cioè li ho usati solo per i capelli. In che modo per i capelli, se posso chiederle? Praticamente facendo bollire i semi si ottiene un gel che poi praticamente si può utilizzare come impacco per i capelli per renderli più morbidi. Credo che comunque sia diciamo al 50% reale tutto quello che danno, perché comunque, perché sia alla fine reale al 100% dovrebbe essere una cosa usata quotidianamente, abitudinamente, insomma, e non è così purtroppo. Io non ci credo, una mia amica ne sta facendo uso per problemi di pressione. E sì, sono cibi che comunque si utilizzavano, non sono nuovi cibi, sono antichi, rimedi che però si sono persi con le erboristerie. Non ci sono più le erboristerie e non ci sono più tutti questi cibi che invece si utilizzavano regolarmente. Tutti i giorni alle 12, le indimenticabili commedie del cinema italiano riconosciute in tutto il mondo. E poi, sai qual è la cosa più difficile che io? Dimenticare se stessi. I volti dei grandi attori di sempre entrano nelle nostre case per farci compagnia. A mezzo di cinema. Alla tua salute, amore. Smettila. Lo sai che non mi piace. I semi di lino sono un vero superfood. Vero o falso? Assolutamente vero. Il lino è uno di quei prodotti che produce una serie di vantaggi per il consumo dei suoi semi che sono veramente interessanti per la salute, in questo caso, dei consumatori. Soprattutto per gli acidi grassi che contiene all'interno. Possono essere considerati equivalenti a tanti altri alimenti che danno acidi grassi essenziali. L'unico problema che hanno chiaramente i semi di lino è la loro masticabilità. Noi non possiamo utilizzare i semi di lino talquari e ingoiardi perché non verrebbero in qualche maniera attaccati dal nostro sistema digestivo. Noi non siamo animali come gli erbivori che riescono in qualche maniera a digerire la cellulosa. Quindi passerebbero intatti il canale, chiaramente digestivo, e chiaramente verrebbero assolutamente persi all'esterno. Se proviamo a masticarle, le loro dimensioni sono così ridotte, la loro tenacia così alta, che non ne ricaviamo un vantaggio. Quindi introdurre i semi di lino come tale all'interno di alcuni prodotti, specie da forno, non dà un'utilità immediata. Come farina possiamo avere chiaramente un vantaggio, ma non è comune. Molto spesso viene consumato olio di lino, che viene aggiunto ad alcuni prodotti, specialmente del settore del bakery, ovvero dei prodotti da forno. L'olio di lino è un prodotto estremamente importante per il contenuto di acidi grassi essenziali, ma proprio per il suo elevato contenuto di acidi grassi essenziali è anche estremamente indifeso, per cui può essere consumato solamente in maniera molto rapida, perché col tempo il consumo, se viene prorogato troppo avanti, producerebbe a questo punto un olio rancido, che darebbe chiaramente poco vantaggio gustativo ai consumatori. Quindi apprezziamo l'olio di lino, mangiamolo chiaramente all'interno di alcuni prodotti e ne facciamo sicuramente un vantaggio per la nostra salute. Per gli Omega 3 i semi di lino sono come il pesce, vero o falso? Vero. Il nostro metabolismo, il nostro organismo, non riesce a produrre alcuni acidi grassi, cheppure sono essenziali per la nostra salute, per la produzione di determinati metabolismo, e viene richiesta la presenza di acidi grassi come gli Omega 3 e gli Omega 6. Nel caso degli Omega 3 sicuramente una delle fonti più importanti sono i pesci. Possiamo però in alternativa avere anche altre possibilità. In questo caso l'olio di lino si presta. La differenza tra l'olio di lino e il pesce sono ambe due acidi grassi essenziali come fonte. Forniscono Omega 3. Probabilmente l'olio di lino ha qualche problema in più solo per il suo costo, che è molto elevato, perché se ne può produrre una quantità relativamente ridotta e non è estremamente diffuso fra i consumatori, e per la sua difficoltà nella conservazione, proprio per la sua eccessiva deperibilità. Nel caso del pesce abbiamo invece il vantaggio che il prodotto viene consumato attraverso chiaramente dei piatti anche più gustosi. Ma sicuramente l'olio di lino, aggiunto a freddo, quindi senza chiaramente stressarlo con processi termici che possono essere cottura, frittura, messa nel forno, ma un'insalata ad esempio, o anche un prodotto alla fine della sua cottura, che viene semplicemente condito con dell'olio di lino, può darci dei vantaggi non indifferenti e fornisce quella quota giornaliera di acidi grassi essenziali della categoria Omega 3, di cui ne abbiamo necessità e bisogno. Dovremmo aumentare anche la quota di questi Omega 3 per compensare l'eccesso di Omega 6 che noi stiamo introducendo con la nostra alimentazione negli ultimi anni, questo dovuto chiaramente a degli errori in generale di convinzione. Quindi consumiamo l'olio di lino dove è possibile, altrimenti possiamo in questo caso utilizzare anche del pesce. Semi davvero interessanti questi, soprattutto per l'uso in alimentazione ma anche in cosmesi, con questo oggi ci fermiamo qui, torniamo domani con un test molto interessante, soprattutto per i genitori, le bevande al cacao. Sono davvero sane? Sono tutte uguali? Beh, noi le abbiamo confrontate e domani vi raccontiamo cosa abbiamo trovato. Bricofer, la più grande catena italiana del fai-da-te.